Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Alba Adriatica si tinge nuovamente di blu e torna in compagnia delle sei sorelle della costa teramana insignite della bandiera della FEE. Il riconoscimento ad Alba Adriatica arriva a distanza di otto anni. Era infatti il 2013 quando la cittadina Adriatica perse il vessillo della FEE. Antonietta Caciotti oggi è un sindaco festoso. Il cielo sopra Alba Adriatica è blu come la bandiera che sventolerà. Posso ufficializzare l'assegnazione di questo vessillo 2022 al comune di Alba Adriatica. È un riconoscimento che ci viene assegnato dalla FEE, un riconoscimento non scontato per il quale il percorso di conseguimento non è stato assolutamente semplice. Era il 2010 quando iniziarono i problemi di carattere ambientale. Lo sversamento di liquami alla foce del vibrata compromise i dati di qualità ambientale delle acque e di sostenibilità dell'intera costa albense. Dopo otto anni avendo certificato una eccellenza delle acque di balneazione nell'ultimo quadriennio l'impegno profuso e la perseveranza ha avuto il giusto riconoscimento. Giusto non per l'amministrazione che comunque si è data da fare ma giusto soprattutto per una città che meritava questa bandiera e per tutti coloro che si sono spesi a che ciò avvenisse. Bandiera in archivio dunque lo cicolone dello scorso anno non dipeso ovviamente dall'amministrazione comunale perché diciamocelo chiaramente c'erano tutte le condizioni perché Alba Adriatica ottenesse già nel 2021 la bandiera blu duramente sofferta. In un momento di gioia così grande si archivia tutto quindi si archivia anche un disguido che c'è stato certo che se fosse sventolata già dall'anno precedente era meglio però archiviamo oggi il cielo è blu, è blu come la bandiera, gioiamo, brindiamo e aspettiamo questa grande festa che l'amministrazione comunale farà con tutta la città.